Ciao, buonasera a tutti, un saluto ai frati e a voi che siete a San Giovanni Rotondo. Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo tramite social o in televisione su Padre Pio TV. È bello ritrovarsi e passare un po' di tempo così chiacchierando insieme. Allora, per la tematica di oggi volevo proporvi questo fioretto. Allora, io vivo in un paesino vicino Bari e necessariamente per raggiungere tutti i vari luoghi di ritrovo, luogo di lavoro o l'università sono costretto a muovermi con i mezzi. Questo quindi implica il fatto che io debba utilizzare per la maggior parte delle volte la mia macchina privata. Però io mi rendo conto che il tempo sta passando e il clima ci sta chiedendo tanto una mano. Magari nel nostro piccolo e nel mio piccolo in maniera specifica sarebbe bello se invece che prendere l'automobile io prenda i mezzi pubblici. Certo, magari è un po' scomodo soprattutto perché devi sottostare a degli orari perché si è in tante persone all'interno di un luogo chiuso però forse questi piccoli sacrifici mi possono portare a crescere e a fare qualcosa di utile per l'ambiente. È una piccola cosa però immagino che se tutti quanti lo facessimo qualcosa sicuramente potrebbe effettivamente cambiare. Quindi questo è il mio proposito, vi ringrazio il mio fioretto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata.